Uno di sé allunga quasi quattro anni, quella di Giovanni Tegon, 74enne di Quinto di Treviso. Le sue vicissitudini, tra visite, appuntamenti e telefonate che non arrivano, iniziano nell'agosto 2018 quando si sottopone ad un primo controllo nel quale gli viene diagnosticata una ernia inguinale. Mi hanno detto che è da operare, come ha visto sulla carta, è da operare, la metteremo in lista e la chiameremo noi. I mesi passano e un anno dopo, nell'ottobre del 2019, si reca nel reparto di terza chirurgia del Caffoncello per chiedere informazioni e qui gli fissano, qualche giorno più tardi, una nuova visita che conferma la necessità dell'intervento chirurgico. Mi hanno mandato a fare gli esami preoperatori. L'infermiera mi ha detto, alla quale io ho chiesto, a fine dicembre 2019 oppure a gennaio 2020. E invece non è arrivato niente, insomma, sono ancora qualche aspetto e sono passati tre anni e sette mesi. Nel frattempo il pensionato presenta due reclami, ricevendo risposta al primo in cui si ipotizza la possibilità di eseguire l'intervento all'ospedale di Montebelluno a Castelfranco. Ma a questo non fanno seguito altre comunicazioni e il signor Tegone è ancora in attesa dell'intervento, mentre la sua ernia è peggiorata. Si è ingrossata in sostanza, diciamo, parlando, metà i testini fuori, non so cosa dire. Come dicevo, adesso, stamattina, per esempio, c'è tutto un dolore qua al basso ventre, mi devo sedermi, non so cosa fare, non posso neanche muovermi. E' da operare questa cosa, che sta peggiorando, sta ingrossandosi, come ho detto. Tempi d'attesa strettamente legati alla pandemia, spiega l'Ulss2, che chiarisce come le patologie benigne siano state bloccate proprio a causa del Covid. L'azienda sanitaria però sta lavorando per smaltire le lunghe liste, anche utilizzando una sala operatoria aggiuntiva. Presto, dunque, per il signor Tegone potrebbe arrivare la telefonata, attesa da quasi quattro anni.